Ma guarda, io non ho nessuna intenzione di difendere Orban, a parte che il fatto che sia stato votato non è un elemento secondario. Io un po' sono rimasto perplesso quando, diciamo, nello stesso discorso da una parte Draghi dice che non c'è nessun tipo di prova o comunque addirittura nel famoso rapporto degli 007 americani non era presente l'Italia e dall'altra parte invece continua con una serie di congetture che puntano a dimostrare che c'è o Salvini o qualcun altro che hanno avuto qualcosa a che fare con i russi. C'è il famoso viaggio, no Augusto? Il famoso viaggio di Salvini ma è realizzato. Quelle sono agenzie viaggi. Seguimi, seguimi. Io parto da un presupposto, l'ho detto il primo giorno. Se ci sono i nomi bisogna tirarli fuori per un motivo molto semplice, perché se noi diciamo una cosa di questo tipo sono delle accuse gravi, stiamo addirittura in guerra di fatto con i russi quindi è una sorta di alto tradimento, ma se quei nomi non ci sono, se addirittura in quel rapporto non è neanche citata l'Italia a quanto dice Draghi, continuare a parlarne a cinque giorni dal voto è un'ingerenza, è un modo per intervenire, per strumentalizzare, per speculare. E mi meraviglia sia il ministro degli esteri Di Maio sia lui, perché se questo è vero altrimenti, e se loro sanno qualcosa, dovrebbero dirlo, perché se non lo dicono e si assumono una grande responsabilità. Però Minzolini, scusa, poi sentiamo Gomez, guarda, scusa, seguimi, poi sentiamo Gomez. Draghi ha fatto un riferimento, scusa a mio Augusto, molto preciso, cioè ha detto mentre c'eravamo noi che avevamo una linea, c'era qualcuno che trattava con Putin, cioè il riferimento era precisissimo ed era al viaggio che Salvini... Ma lui è, scusami, è stato il presidente del consiglio di un governo che è nato ed è stato sostenuto dalla Lega che ha dato la possibilità a Draghi, giustamente, ripeto, giustamente, perché altrimenti darei un giudizio negativo della Lega, di dire sia le sanzioni alla Russia, sia di fornire le armi alla Russia. Allora io da questo punto di vista non puoi, dopo che tu hai incassato quel voto, non riconoscerlo, che poi qualcuno dica menate parole, ma a me quello che contano, specialmente per un presidente del consiglio, dovrebbero essere i fatti, anche perché il momento in cui tu metti in discussione quella solidarietà che c'è stata nel Paese e che ha dato l'idea a un'immagine forte, tanto che ha permesso a Draghi di avere un ruolo importante a livello internazionale, beh di fatto, rendi diciamo meno, non dici quello che è giusto dire di quello che ha fatto l'Italia in questo momento. Allora Augusto, andiamo da Ludovica Ciriello che...